Decisamente stride, quel manifesto andrà tutto bene sulla facciata del municipio di Pietrastornina con il cumulo di macerie lasciate a terra dalla banda del Bancomat. Ma stavolta il colpo alla Banca Popolare Emilia Romagna in piazza Aldomoro è fallito. I malviventi, probabilmente in tre intorno alle 2.30, utilizzando un potente esplosivo, hanno danneggiato la postazione a MT per rubare le banconote all'interno. Il colpo però non è andato a buon fine dal momento che i ladri, forse avvisati da vedette, sono stati costretti ad una precipitosa fuga immediatamente prima dell'arrivo di varie pattuglie della compagnia Carabinieri di Avellino. Indagini sono in corso. Sul posto è intervenuta anche la squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza l'aria interessata dalla deflagrazione. Danni anche all'attivo ufficio postale e all'ingresso del municipio. Il sindaco, Amato Rizzo, che nella notte si è precipitato in piazza Aldomoro, chiede più controlli e una maggiore presenza delle forze dell'ordine. Tra i tanti tuoni si è sentito questo boato molto forte, infatti ha svendrato la parete del comune con un bel po' di danni. Noi non siamo abituati tutti i giorni ad avere questi tipi di episodi, quindi è ovvio che ci siamo rimasti un po' sconvolti. Oggi abbiamo sospeso un attimino per capire un po' il tutto, però lunedì gli uffici saranno aperti. Scossa la comunità, subito abbiamo capito che quel boato non era un tuono. Io ho sentito il colpo, la botta, perché abitavo vicino qua. Non batte, se ne avevo accorto immediatamente che non era un tuono, però a immaginare che stavano rompendo. Quello che è strano è che si sta verificando in parecchi comuni della Valle Caudina. Questa secondo me sarà la solita banda che gira, che ancora le forze dell'ordine non riescono ad assicurare la giustizia.